L'asta, lei no. L'asta, per favore, non serve. Ah, non serve l'asta? Hai visto l'asta? L'asta l'ha vista. Dove la metto? Mettere un po' fin dietro. Ok, va bene? Un mondo nordico fatto di distese ghiacciate, pili e ursi. C'è una semprea più urso in mezzo. C'è una semprea più urso. 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 Aplausos 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 Aplausos